ciao a tutti ragazzi sono leone rieccoci in dinosaur park per il terzo episodio allora entriamo ragazzi vediamo subito che me lo aspettavo guardate a parte tutti i vari banner per shoppare che li chiudiamo subito allora ragazzi guardate che disastro sempre un disastro i cestini io ve li ho messi però voi fate sempre schifo cioè non è possibile che la gente non si sbatte a buttare la roba nei cestini o forse magari che sono pieni può essere che sono pieni dai cominciamo a pulire ah signore mio dio sempre il solito discorso qua che la gente deve sporcare in giro e buttare la roba a terra che maleducazione che maleducazione ragazzi mamma mia puliscimi anche qua qualche questo qua non trova il bagno porco cane dov'è il bagno non già la faccio più ho mangiato il gelato al baracchino me la sto facendo addosso puliamo anche qua finiamo di pulire qui e poi ragazzi allora avevamo lasciato qua da costruire la nuova bancarella ok e poi grandioso perfetto altri soldi meno male raga perché comunque ho dovuto aspettare un attimino a registrare ma veramente pagan poco ho dovuto aspettare un attimino a registrare perché sono entrato un paio di volte a loggare per tirar su 2000 alla volta da comunque dal botteghino qua ma comunque vedete che i soldi veramente sono pochi verrà un episodio abbastanza corto rispetto agli altri diamo l'acqua a tutte le piante intanto perché ovviamente il vecchiettino non può fare niente lui troppo sbatti lavorare poi qua cosa ci possiamo mettere questi qua sono sempre a pagamento vediamo un attimo non capisco come mai no non lo posso mettere ovviamente perché il recinto è sbagliato fa vedere un attimo il recinto per il raptor scusami eh recinti ok ci vuole questo qua per il raptor no questo qua l'ho già messo scusa eh ma sul raptor non c'è scritto che recinto ci vuole vediamo un attimo questo qua eh quello con la piantina fa vedere il disegnino eh questo qua vuole ah vuole lo stesso dello stego non posso metterglielo dentro assieme che si mangiano no ovviamente no ragazzi dai cominciamo a pulire da mangiare ce l'ha puliamo anche tutte le le gabbiette ah ce n'è ancora qua guarda ok puliamo anche qua che compi fa sempre un disastro qua continuo a sostenere che c'è qualcuno che mi prende in giro e va a sporcare le gabbie di dinosauri perché palesemente le impronte non possono essere loro dai ok anche gli anchilo gli y10 qua intanto ritiriamo tutta l'exps questo qua lo devo ricaricare no in realtà ancora tre ore ah ma questo funge da auto ricarica del ho capito funge funge da pecora automatica vai giochiamo con la pecora che non gliene frega niente lo sappiamo già pecoriamo anche questi qua guarda come te li pecor ultra fast papapam giocato fantastico anche lo stego vuole giocare con la pecora non l'ha neanche vista col binocolo ma va bene lo stesso puliamo anche qua che mi ero dimenticato diamogli da mangiare a loro perché non ho ancora messo la mangiatoia e ta 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 pecora anche per voi pecora in palla ok allora vediamo un po' che cosa possiamo fare questi qua vogliono mangiare nessun problema questo qua è arrabbiato perché non c'è il banchetto dei frullati lo possiamo fare ottimo non lo sapevo allora lo mettiamo qua tanto che c'è un po' di posto vicino alla panchina to così non rompi le scatole ah no aspetta oh col cavolo questo ha le gemme ti arrangi ti tieni la fame ma pensa a testo qua allora intanto abbiamo sbloccato qualche achievement qua non ho niente da ritirare però eh no ok vediamo un attimo allora dobbiamo fare le foto ragazzi dobbiamo fare le foto io farei una foto agli y10 qua clic mi dice di far tre foto nuova foto non voglio condividere niente fotina a lui poi ah ma devo per forza fare condividi dai condividi poi torniamo indietro vediamo se me la prende ok devo continuare a far foto e clicca condividi tac a lui basta che fai finta di condividerlo sono su l'emulatore non posso condividere porco cane ah signore tutte ste robe per diventare social e portare sempre più clienti eccola la nostra amica ottimo lavoro ricarichiamo la pecora qua ai tizi ah no stanno già pecorando da soli ottimo ho visto il segnalino pensavo di dover fare io cosa ci han dato un cactus cosa mi faccio io del cactus dai glielo metto qua vicino al cestino che bello lontano che fa schifo eh quanti soldi che ci han dato ragazzi ci han dato veramente un sacco di soldi allora dobbiamo arrivare a 10 a questo qua in realtà non gli avevo dato ancora un accento ragazzi quindi provvedo subito una meravigliosa giornata di sole a tutti voi volevo venire a trovare debbie come sta debbie sta diventando famosa tuttavia è pazzesco che abbia cercato di tenerla nel suo cortile oh 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 matto è solo una questione di prospettiva sono così felice di sentire che è contenta che bel lavoro però sembra un po sola forse avere un compagno di giochi le farebbe bene ah ma il gioco duro buona idea mettiamoci al lavoro ok allora scegli un dono della crescita di livello per te e per i tuoi amici ma sono obbligato ah ok rilancia ok ok allora prateria segmento boscoso e prateria allora in teoria abbiamo più gente per la prateria quindi io sceglierai il laghetto che è più figo ok ospita due dei no cosi allora qua che cosa vuole vuoi migliorare questo negozio lo stadio 1 ah questa non la sapevo ottimo miglioriamoli ovviamente miglioriamo anche lui ah no non si può a livello 8 ok dai ragazzi proseguiamo mettiamo giù ah completa devo averne di più pensavo che fosse una roba una tantum che mettevo giù allora qua in realtà posso mettere dei dino ci mettiamo altri no gli anch'io li mettiamo qua gli anch'io li mettiamo tutti nello stesso posto eh io là volevo metterci il raptor ma non me lo fa mettere il cacchio di raptor ragazzi perché mi ci vuole devo aspettare di sbloccare uno spazio nuovo devo aspettare sto tizio qua cosa me lo dice in tedesco mamma mia che casino un po' in inglese un po' in tedesco allora proseguiamo mettiamo giù le decoration raga allora mettiamo giù un po' di decoration dove le mettiamo le mettiamo all'ingresso le decorazioni vai le mettiamo qua ruotamela no mettimela qua sotto grazie ok mettimela qua grazie mille ok l'ultima no quante cacchio ne ho ok fantastico altre decorazioni vediamo un po' qualcosa che non abbiamo ancora preso costa poco prendiamo sti fiori laus buono e ce li mettiamo da questo lato ovviamente perché questa qua è la zona del prato fiorito ragazzi come abbiamo già detto mettimeli qua che raddoppio ok perfetto e anche questa quest l'abbiamo completata mettiamo un'altra ruota per i criceti qua per far giocare le bestie lo mettiamo qua che questi sono in tanti attrezzatura di gioco sbagliata per questa specie attrezzatura di gioco sbagliata ma dai anche loro questa invece sbagliata vabbè qua non c'è nessuno qua lo stego figuriamoci lo sfonda e niente mettiamogliela al compi cosa devo fare ottimo perfetto abbiamo completato anche questa task raga ci servono più visitatori ci servono altri dinosauri e decorazioni vediamo un po' di aggiungere i dinosauri se riusciamo no Dino sono già al full volevo mettere il secondo stego ma non me lo fa mettere non capisco come mai adesso me lo fai mettere ci ho provato tutto lo scorso episodio sono diventato scemo per mettere lo stego adesso me lo fai mettere a gratis perché ti hai rifissato di no pensa a te che vuole decidere lui allora mettiamo uno di questi qua che cos'è? un posto tranquillo per rilassarsi e fare ok un bel picnic ci serve un bel po' di spazio però porco cane ragazzi quanto spazio e non me lo fa mettere qui perché? spazio occupato no mi serve lo spazio dedicato qua perfetto che figata guarda che me lo fa mettere qui grandissimo anzi guarda te lo metto qua perché lì ci sono le transenne vai ottimo dai abbiamo fatto dieci visitatori così adesso arriva il tizio attenzione ragazzi che sta arrivando il tizio il mio eccolo qui incredibile ce l'avete fatta non te l'aspettavi eh ottimo dai che possiamo mettere giù eccellente abbiamo dieci visitatori ce l'abbiamo fatta il signor non crederà ai suoi occhi eccolo che arriva oh signore sta arrivando ragazzi mamma mia i visitatori si stanno frettando per entrare sarò felice di vendervi una delle mie proprietà ma non hai detto che me la regalavi? ma guardate sto infame vendere? lei ha scommesso una proprietà hai visto? me lo ricordo anch'io l'ho fatto? bene prendetela ma questa non sarà l'ultima volta che avrete miei notizie ah ok ce la regala e che cavolo che perdente irritato happy queen del vecchietto che perdente irritato ma non lasceremo che questo ci rovini il morale tuttavia dovremmo stare attenti a rimanere nei buoni rapporti con il signor Emmental e tutti i terreni qui intorno appartengono a lui eh che cavolo dai ragazzi finalmente mettiamoci subito il recinto cavolo per il raptor vediamo ancora la conferma ci serve lo stesso dello stego eh vai buttiamolo giù subito ragazzi perché non vedo l'ora non vedo l'ora di avere il raptorino allora uno due uno due tre quattro presumo sia qua dai al massimo lo spostiamo e qua a continuare questa menata del vai no di là devi mettermela strada strada e qua aspettiamo perché no vabbè dai mettiamola stradami anche di qua ma ma perché devi andare sempre nella direzione che vuoi te ok vai vai buttami dentro il raptor stai scherzando vero ah mi è venuto un infarto raga devo aspettare che finisci di costruirlo hai ragione no devo aspettare che finisci un minuto di costruirlo mi era venuto un infarto ho detto va che mi prende in giro ancora sì ma qua io continuo a vedere delle cose che abbiamo che abbiamo completato non è che posso ritirare qualcosa eh ah ecco guarda ne ho visto uno che era sei no me lo sono inventato mi dice che qualcosa l'ho completato ah vabbè ma non è roba che posso ritirare niente dai aspettiamo questi 59 secondi raga intanto ritiriamo la povertà i 48 dollari qua qui devo ancora aspettare per metterci dentro il dino perché finché non me lo regalano di certo non lo compro possiamo già mettere altri due raptor quindi appena appena finisce uno ce lo mettiamo poi siamo in bolla e dobbiamo salutarci come al solito e vabbè l'ho già detto più di una volta che questi giochi comunque gratuiti ragazzi ci giochi una settimana di solito sul telefono una settimana scarsa volendo anche un giorno o due e poi diventa sempre più dilazionato il guadagno e quindi poi diventa una sorta di mantenimento entri una volta al giorno tiri sui soldi e poi dopo giochi una volta a settimana ma sono tutti così questi giochini qui dai dai 9, 8, 7 non vedo l'ora di avere i raptor che non si chiamano raptor ragazzi si chiamano dei nonicus ma a me non me ne frega niente perché per me questo qua è un dannato raptor va bene perché è identico poi chiamalo come vuoi vai ottimo guarda Debbie un recinto enorme solo per te ma non mi sembra no sei triste i giovani animali come lei hanno bisogno di molte attenzioni accarezza il dei nonicus qua ma ho capito che devo accarezzare il dei nonicus ma io volevo mettergli un amichetto così almeno è più contento oh guarda qua almeno sei meno sola grandioso oh guardate a Debbie piace e anche il parco ora sembra molto più bello non so se era questo qua la voce ragazzi ma sono un po' confuso incomincio ad essere incasinato allora tocca e trattieni il dino spostando il dito in avanti indietro per accarezzarlo va bene va bene oh signore è arrivata crudeglia demone effettivamente a questa non gli abbiamo mai dato una una voce ragazzi fatemi riflettere un attimo come potrebbe essere molto altezzosa buongiorno tutti oh salve dottoressa Midas cosa la porta in questa bella giornata sono venuta a scusarmi per gli spiacevoli inconvenienti in passato non avevo scelta è tutta acqua passata il parco di dinosauri possono restare è tutto e questo è tutto quello che conta ragazzi no devo insistere è come segno del mio disprezzamento per il lavoro che fate qui ho un regalo per il parco non ho badato a spese tanto con le mie pellicce quando frulli i dinosauri ci guadagno abbastanza ho fatto realizzare questa ruota premi per uno per uno stand della lotteria e donerò anche i premi a vita vabbè è la solita ruota ragazzi non perdiamo tempo a leggere queste cavolate è la solita ruota oh signore un altro mio dio non so più che cosa fare ragazzi per ora lo leggiamo così che è anche tardi direttore qui avete un parco proprio affascinante tuttavia i dinosauri avrebbero bisogno di cure un po' più professionali pensa che potrei lavorare qui certo non c'è i soldi neanche per pagare le cose del parco dobbiamo continuare a mantenere della gente qua qui abbiamo sempre bisogno di qualche mano in più eh certo tu non fai niente se mi dessi una mano vecchiettino sono così emozionato mi chiamo Carl eh signore pure gli devo far l'alloggio per lo staff madonna ragazzi che casino che casino allora questo che cos'è questa è la ruota premi dove la mettiamo la mettiamo ragazzi qua la mettiamo qua poi dopo gli sposterò lo stendino dai gli sposterò i vari piloncini messi giù vai ritiriamo subito il nostro primo premio poi ci salutiamo così accumulo moneta per per il prossimo episodio raga non so quando sarà ma per tirar su un po' di soldi qua ho vinto un sasso ragazzi ho vinto un sasso di sicuro dovrò aspettare almeno 3-4 giorni per fare un altro per fare un altro episodio intanto raga non voglio lasciare da soli questi ah è troppo piccolo ce ne vogliono due cavolo allora intanto non abbiamo accarezzato idino come cavolo si faceva dovevo tenere schiacciato il tasto far qualcosa no dovevo schiacciarci su ah la manina tieni le coccoline tieni le coccoline un po' per coccoline per te grandioso mi hai dato la povertà grazie mille ra 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 oh guarda come contenta ra na 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 ma non sembra ancora così felice vi si va bene ti faccio le coccole tutti i giorni che stress vai accarezziamo anche l'altro tieni le coccole ok coccolato anche lui ok ragazzi dai ho pochi soldi e sinceramente qua basta che compro una mangiatoia o uno stand e sono già sono già full poi comunque siamo in là coi tempi accumulo ancora moneta ragazzi ci vediamo per i prossimi episodi il nostro parco sta diventando una bestia abbiamo sempre più ospiti sempre più dino dai ragazzi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate like e condividete per aiutarmi a crescere e come sempre ragazzi un rigito a tutti dal vostro leone ciao al prossimo episodio ciao 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 ciao